ecco il tramonto alla isla del sole, il sole sta lì dietro, boscato se non agi il sole fa un freddo che te dico te pela te pela di là è Perù dove esperiamo di essere domani sera, domani sera stiamo a Cusco se tutto va bene, ma credo che sì, e spero che sì con il tramonto vi saluto, ci vedremo magnana per il trekking l'inca trail della isla del sole e poi la isla della luna a magnana il mio sterlo è questo, o quello successivo, o quello successivo forse che tipo questo, simpaticissimo, due tipi troppo simpatici a magnana per il sole Grazie a tutti. Buongiorno, siamo davanti a presa di questa affaticata allucinante e siamo nel cammino, questa è la via, già hanno detto che camminavo, stango morto, bosco di eucalipti, laggiù montagne innevate. E ancora c'è una venta camminata, io ero il mio amico, taglio un cibo e quindi ci vediamo ma starde, è un'altra ripresa. Ok? Guarda vai. E questo è l'altro cammino che ci aspetta. Minchia è passato un po' aspetta, porca vacca. Ok, questo è l'altro cammino che ci aspetta. Arriva fino, eccolo, da qua, fino alla casetta là, poi ancora giù. Questa minchia. Guarda dove siamo? Guarda, è spettacolo. Ok, ci saremo troppo più avanti. No, aspetta, ho fatto la veriguale. Allora, questo è poco. Stiamo camminando. Cosa gente che si incontra. Wow c'è una pace che si sta allusinando, è un parlo, parlo alla natura. Questo è il bosque di eucalipto, questo è il bosque di eucalipto. Il bosque di eucalipto, è il bosque di eucalipto. Siamo ancora in cammino. Questa è la strada che abbiamo fatto. Questo, con l'altro, con la mia. Questa è il bosque di eucalipto. Questa è il bosque di eucalipto. Questa è la luna, andremo più tardi. Questa è il bosque di eucalipto. Questa è il bosque di eucalipto. Ora, se pensi che in tre ore che camminiamo siamo quasi arrivati, perché sto qua davanti. Questa è il bosque di eucalipto. Eccolo. Facciamo altre tre ore di cammino. Più barca, pugnette, cazzo. Più stasera alle sei. Oltre alle 12 ore, già la tuspa arriva a Cusco. Mamma mia. Sarà anche bello. Che fatica. Aissa. Ora vedi queste ruine, come siamo arrivati? Sono arrivati eh? Le ruine su qui. Ma buonanotte. Vedi. E' là. Ocala. Ecco, ecco. Un amico che arriva. Queste sono le ruine. Ecco. 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 E' un amico che arriva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.